Un saluto da Robert Matrimi, il primo del centro da Don Elpi, il Ronaldo Trieta vince la Supercoppa Spagnola Scusate se ho avuto a fare adesso il video, ma pensavo che si andasse su supplementari Scusate, non aspettavo che avessimo vinto perchè ho vinto io 7 a 3 Solo che all'altro ho perso una 0 in casa, in trasferta Allora, scusate, stavo, pensavo che ci fosse la regola come in Champions League, no? Con in trasferta, Valgon2, se l'andata hai perso, nel ritorno vince, eccetera Allora, pensavo che si andasse suplementare Non è così, abbiamo vinto anche la Supercoppa Spagnola Dopo il 0-1, 1-0 dell'andata che abbiamo perso a Villarreal, a Madrid, vinciamo, mi ha vinto Ho dovuto fare 7 gol, pensando che se no dopo rischiavo di perderla Ho cercato di fare 7 gol, li ho fatti Ne ho sfiorati anche tanti, da cui ne ho sbagliati, però E adesso la Supercoppa Spagnola Eccoci, questa che è la nuova stagione, sono rimasto a Real Madrid, come avete visto Mi ha rosa formazione, eccola qui La Supercoppa Spagnola Eccola qui, vinta da Real Madrid Allora, comunque l'anno scorso ho vinto 3 titoli su 3 Cioè Champions, Campionato e Coppa del Re Per adesso inizia già bene, ho subito un troffato Il migliore è unico, ovviamente, non si può discutere Un gol Ne ha fatti 4 però Cristiano Ronaldo Però faccio 9-10 Comunque bravi tutti Allora, 7-3 Mi faccio dei rigoli Al... All'undicesimo Giuseppe Rossi, su calcio di rigore C'è un bug Qui c'è Giuseppe Rossi Che tira E fa gol No, scusate, avevo aperto io le marcatore con Cristiano Ronaldo Qui c'è un bug, Ronaldo Passa per Benzema Parata Poi torna Ronaldo e fa gol Scusate, poi l'1-1 di Rossi Al 25esimo Giuseppe Rossi Mi metti in crisi perché penso che sta vincendo il Villareal Poi al 43esimo Stemma, io metto C'è un bug, ragazzi C'è un pazienza Su per il portiere Va a far gol Con un tiro Poi al 48esimo Cristiano Ronaldo sul calcio d'angolo Prossimo mezzo Ronaldo Guardate qui c'è un bug Chi se ne frega Di testa Ronaldo Traversa Ancora Ronaldo che salda E fa gol Poi al 53esimo Arriva il quarto gol Con Runei qui Passato per Ronaldo Fa gol Al 65esimo Runei Però mancano dei gol Che qui però non ci sono Ce ne sono 3 di Ronaldo Che se sarebbero 4 Comunque qui i gol Ah poi l'ultimo gol Al 90esimo Jones Regala il terzo gol al Villareal Autogol E metterlo in porta Autogol Dunca allora Allora ci sono Qui mancano dei gol Allora ce ne sono Tutti i 3 del Villareal Della Real Madrid però c'è solo quello Di Runei I 3 di Ronaldo E uno di Jopatic Mancano due gol Che sono Uno di Cristiano Ronaldo E l'altro di chi è? Uno di Ronaldo E uno di Jopatic Mancano Pazienza Grazie Un saluto da Robert Robert VAT3900 Scusate se non vado a vedere L'ultimo spicchio di partito che lo faccio in ogni video Ma pensavo che si andasse a sperimentare Salutiamo Ciao amici Ah adesso ho anche la supercoppa europea Contro Lo Sporting Lisbona Se la vengo sarà il video Se no Per i tifai che vincere O per la decima stagione Ciao belli Grazie.